Brutto incidente questa sera, sabato 2 dicembre, in via Circonvarrazione, sta da Provinciale 460 a Feletto. A scontrarsi due vetture, una Fiat Punto condotta da un giovane di 19 anni di Rivarolo Canavese, con a bordo una ragazza di 19 anni di Feletto, e una Volkswagen Polo guidata da una ragazza di 24 anni di Rivarolo con a bordo un ragazzo di 24 anni di Cornier. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, Croce Rossa di Rivarolo e San Giorgio Canavese e Croce Bianca del Canavese. Nell'isoccorso del 118, i Vigili del Fuoco di Rivarolo e Ibrea, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ibrea e i Carabinieri di Rivarolo. Lo scontro è stato violento. L'Apolo, dopo l'impatto, ha terminato la soccorso in bilico sul fossato che costeggia la carreggiata, mentre la Punto si è fermata in centro la carreggiata in traverso. I quattro sono stati estratti dalle lamiere delle vetture e subito affidati alle cure dei sanitari. Fortunatamente hanno riportato solo lievi feriti e sono stati trasportati dall'ambulanza all'ospedale di Ciriè. Al Valle dei Carabinieri della Radiomobile la dinamica dell'incidente, con ogni probabilità a causarlo è stata la patina di ghiaccio sulla strada. Al Valle dei Carabinieri della Radiomobile la dinamica dell'Apolo, Il Valle dei Carabinieri della Radiomobile la dinamica dell'Apolo, Il Valle dei Carabinieri della Radiomobile, Il Valle dei Carabinieri della Diphteyre, di conserva del braccio sulla prigio dell'Apolo, Grazie a tutti